E purtroppo questa aggregazione forte in un ambito territoriale molto angusto, ristretto, propensione all'uso di alcol e di droghe è l'ambiente ideale per potenzialmente creare delle situazioni di violenza, anche per uno sguardo di troppo, per un atteggiamento sconveniente, per una voglia di dimostrare violenza e prevaricazione nei confronti degli altri giovani, come in questo caso. In questo caso è sicuramente l'uso della violenza che è stata fatta, non come è stata rappresentata all'inizio, c'è stata una mega ris, c'è stato un confronto tra questo gruppo di francesi, alcuni di quali anche loro avevano fatto uso di alcol, abbiamo rilevato che uno di questi si era denudato e l'abbiamo ripreso dalle telecamere, questo ha creato uno scontro con un altro gruppo di salernitani, però inizialmente era nata come un'aggregazione naturale, voglio dire tra giovani anche di diversa nazionalità, non c'è un'ostilità verso chi viene, verso il turista, non c'era questo, soprattutto tra i giovani questo elemento non c'è. Che la vicenda fosse diversa da come era stata descritta inizialmente da alcuni giornali, insomma l'abbiamo visto subito, già dalle primissime immagini che avevamo individuato e che descrivevano la presenza di soli due giovani, io ho letto da qualche parte che c'era stato questo gruppo di francesi accerchiato, ovviamente è un po' difficile due persone accerchire un gruppo, soprattutto dalle primissime immagini già notavamo una desistenza di quelli che possiamo definire aggressori, nel senso che non c'era un inferire, una volontà di portare a compimento un atto di un violento forte, ma solamente un atteggiamento di allontanare delle persone da un luogo, questo era quello che si notava dalle prime immagini che avevamo rilevato dal sistema delle tre camere del comune. Poi abbiamo approfondito con indagini, quelle che in genere si chiamano di tipo tradizionale, quindi con informazioni prese per strada, con ricerca di testimoni, eccetera, e alla fine nel pomeriggio di ieri, quindi comunque a breve distanza dalla Prima di Cassella e Venda, abbiamo individuato i cinque giovani che hanno in qualche maniera compiuto questa aggressione nei confronti del gruppo di francesi.